Si è tenuto nei giorni scorsi in modalità telematica l'evento finale di presentazione di tutti i progetti e la premiazione dei vincitori dell'edizione 2021 dell'Unicam Business Game, un'iniziativa voluta nell'ambito della delega per start-up, spin-off, incubatore tecnologico del professor Daniele Rossi, volta a promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale nella comunità universitaria, nonché l'integrazione tra competenze per costituire team con know-how trasversale finalizzato alla presentazione di idee imprenditoriali con contenuto innovativo. L'evento finale di presentazione di tutte le proposte e di premiazione dei vincitori si è tenuto nei giorni scorsi ad Ascoli Piceno, 21 i progetti presentati. Ad aggiudicarsi il primo posto il progetto trasformazione degli scarti dei funghi edibili in ingredienti bioattivi per l'industria farmaceutica, presentato dal giovane ricercatore Unicam Astrid Franks Camganze Q, con l'obiettivo di trasformare gli scarti di funghi edibili in ingredienti funzionali arricchiti in composti bioattivi tipo ergosterolo e vitamina D, che verranno destinati poi alle aziende produttrici di integratori, alimenti funzionali e nutraceutici. A giudicare le proposte una commissione composta dal prorettore alla didattica Luciano Barboni, dalla prorettrice alle pari opportunità, tutela e garanzia della persona Barbara Re e da due esperti di innovazione, Atos Capriotti e Gregorio Di Leo.